E' il momento di ascoltare Noemi, Rozi, ci farà sentire il brano di Malika Ianna senza fare sul serio. Ora, lento, può passare il tempo Ma se perdi tempo, poi ti scappa il tempo L'attimo, lento, come il movimento Che se fai distratto, perdi il tuo momento. Prendi l'attimo, prendi l'attimo Tu non lo sai come vorrei Ridurre tutto ad un giorno di sole Tu non lo sai come vorrei Saper guardare indietro Senza fare sul serio Senza fare sul serio Come vorrei distarmi e ridere Eccola Noemi, Rozi. Grazie. Sorridente, bella. Sempre, il sorriso è importante. Bravissima, dai questa bellissima comunicazione, il sorriso è importante. È tutto, insomma si inizia bene la giornata. Sempre. Io sono di Santa Lucia, Fonte Nuova, il comune Fonte Nuova e faccio la scuola Luigi Pirandello appunto di Santa Lucia. Grazie. Grazie a te. Bene, bene, bene.